Combinazione di sapori e tradizioni caratteristiche fanno di San Perniceto un eccellente polo di attrazione turistica. Ad accendere il gusto i prodotti tipici come il biscotto San Pirotu, dolce che richiede una lunga lavorazione e l'uso di ingredienti semplici come l'anice ed il sesamo. Il biscotto di San Perniceto, in coppia con la granita al gusto di limone, viene offerto ogni anno ai numerosi visitatori in occasione della Sagra, che si svolge nel cuore della stagione estiva. Tra i prodotti del luogo ci sono anche le mele lappede, frutto dal sapore dolce e dal profumo intenso. Altra varietà che predilige i terreni della palle del Niceto è la smergia, dalla pelle liscia e dal gusto inconfondibile. Alla lista prestigiosa dei sapori vanno aggiunti pomodori a scocca, che con grande maestria artigianale, quasi come fosse un ricamo, vengono sapientemente intrecciati con dello spago, per essere poi consumati nel periodo invernale, cucinati a arrosto e conditi con l'immancabile olio extravergine di oliva di produzione sanpietrese. Ad accendere invece le emozioni sono le caratteristiche e ricorrenze di San Perniceto. Un trionfo di fede, colori e profumi caratterizza l'infiorata del Corpus Domini, che negli anni ha conquistato l'interesse di migliaia di visitatori. Protagonista del magico evento è il lungo tappeto di fiori, che riveste il corso principale del paese percorrendo anche le piccole vie ed i rioni. Al suo interno vengono incastonate le icone religiose, che ogni anno interpretano un nuovo tema sacro. Alle diverse ricorrenze religiose se ne aggiunge uno in particolare, che richiama tantissimi devoti, ed è il martedì della settimana santa. Un lungo corteo di bambini adorni di oro precede la lunga processione del Gesù crocifisso. Emozioni che esaltano i valori del passato e che si proiettano nel futuro per mantenersi vive.